Allora, tra il contesto e il venire dopo Mauro, sono indubbiamente emozionato, lo rivelo. Lo ringrazio per questa lezione di vita, come al solito va ben oltre. La ritorica delle parole arriva direttamente al cuore, per cui sono emozionato anche di questo. Ringrazio Mauro per questo e ringrazio l'onorevole Cugnial per l'invito. E credo che sia una rarità parlare di questi argomenti, soprattutto nei contesti in cui questi argomenti sono nati, cresciuti, alimentati. Mauro prima ricordava l'etica. Una Costituzione nasce sotto la spinta dell'etica, altrimenti non ha ragione d'essere. E l'etica si fonda su un principio di solidarietà. Contrapponendoci a Hobbes diremmo Spinoza. Un individuo che ben conosceva che cosa significava pagare sulla propria pelle l'ostracismo, l'allontanamento dalla propria comunità, l'odio. Perché? Perché l'aveva vissuto in prima persona. E probabilmente per questo, come ci ricorda Carlosini, ha passato tutta la vita dedicandosi all'etica. Ma l'etica è prima di tutto un concetto che rimanda al limite. E su questo snodo volevo portare l'attenzione, facendovi notare che la retorica mainstreaming, che in qualche modo di cui si alimenta il neoliberismo, va nella direzione opposta. Cioè, ci vende l'idea di un'assenza di limiti. Tant'è vero che potremmo dire che il principio fondamentale della non etica neoliberista è diventa ciò che vuoi. Che è molto lontano da quello che invece diceva Pindaro in una celebre ode quando diceva diventa ciò che sei, non ciò che vuoi. Ed aggiungeva, magari dopo esserti conosciuto. Dice, sai, mi suppongo, non è abbastanza. Ed è per questo che quando sono stato, come dire, invitato a parlare di questo argomento, ho detto, ma questo è il tema dei temi. Non a caso i padri costituenti, quelli che tu hai citato, che è meglio che non entrano, ma immaginandosi che rientrassero, l'avevano posta proprio a fondamento della nostra Costituzione. L'articolo 3, e in particolare il comma 2 della Costituzione, quello che tu hai citato, è la, come dire, pietra angolare, la parte più importante su cui si regge tutta la Costituzione. Ma c'è una ragione, perché ha un richiamo antichissimo che affonda le radici nella nostra storia, storia filosofica anche. E ricordo, non a caso, tra i tanti che parlarono e si rifecero al conosci te stesso, che campeggiava sul Tempio di Apollo a Delphi, come fattore determinante affinché tutto il resto potesse andare a posto. Se non conosci te stesso, non puoi realizzarti. E un individuo che non si realizza è un pericolo per la comunità. E questa è la grande intuizione dei padri costituenti. Un individuo che manca la realizzazione dei propri talenti è pericoloso, perché è un danno per la comunità a cui appartiene. Li riconosciamo facilmente, tendono all'arrivismo, alla competizione, sfruttano, non collaborano. C'è una bella differenza tra sfruttare e collaborare. E ogni ambiente è infestato di questi che, sempre per usare dei termini moderati, non esiterei a definire parassiti. Che infestano probabilmente molto l'aria. Questi sì sono un vero virus che infetta le nostre comunità, nel lavoro, nella famiglia, ovunque. Ed è incredibile che questa infezione abbia conosciuto proprio nella Costituzione un baluardo. E la Costituzione potrebbe essere letta come una sorta di un breviario giuridico per ogni cittadino. E' impressionante perché proprio nell'articolo 3,2 si passa dall'uguaglianza formale all'uguaglianza sostanziale, perché i nostri padri hanno intuito che probabilmente saremmo calati in quella curva che tu descrivevi e quindi ci hanno spiegato molto bene come si fa ad essere uguali, realizzando se stessi. E quindi il compito della Repubblica è rimuovere tutte quelle discriminazioni che impediscono la piena realizzazione della persona umana. Peraltro una realizzazione che nella prima formulazione era anche spirituale. Cioè nella prima formulazione della Pira era, recitava, io ho studiato, recitava testualmente è compito della società e dello Stato eliminare gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza degli individui, impediscono il raggiungimento della piena dignità della persona umana e il completo sviluppo fisico, economico, culturale e spirituale. Una proposta di Lapira e Basso che è stata lungamente discossa e che non ha cambiato granché il senso, assolutamente, è stata pienamente conservata. Ecco perché è facile parlare di una costituzione spirituale. Ma decliniamolo. Non facciamo l'errore della formalità sennò non rendiamo omaggio ai padri costituenti. Che significa realizzare se stessi e raggiungere la piena realizzazione spirituale? Perché? Perché ognuno di noi deve cominciare a capire che c'è un posto a lui dedicato che non potrà essere occupato da nessun altro. e riuscire a ritrovare quel luogo cioè il proprio posto nel mondo lo metterà in una condizione completamente diversa dalla ricerca in cui si trovava prima o dal conflitto in cui si trovava prima o dall'ansia in cui si trovava prima. Cioè potrà trovarsi finalmente in una condizione di pace. e dalla pace e dal benessere che deriverà dall'avere occupato il proprio posto nel mondo perché? Perché non è più in conflitto con nessuno perché nessuno potrà spendere quei talenti. Nessuno potrà occupare quel posto che a ognuno di noi ha assegnato quindi in quel luogo tace anche la guerra. Ecco è da lì che si diventa generosi è da lì che si diventa donativi generosi nel vero senso della parola cioè si diventa generativi le persone che realizzano se stesse sono creative tendono spontaneamente alla condivisione eccola l'intuizione più grande del pieno e completo sviluppo della persona umana nel momento in cui una società una comunità ti offre l'opportunità e ti garantisce di poter trovare quel posto allora significa che tu stai potrai diventare donativo e a tua volta contribuire alla crescita di quella comunità quindi l'investimento che la società fa su ogni singolo cittadino a cominciare dalla scuola come la volevano i padri non quella di adesso dove ci sono insegnanti che cercano disperatamente di fare l'educatore nonostante tutti cavilli burocratici nonostante e che cercano di fare proprio exducere educare tirare fuori quel talento per facilitare la piena realizzazione della persona umana cioè insegnanti costituzionali lo devono fare di nascosto lo devono fare oltre le loro forze ecco il mio pensiero va proprio alla scuola perché è lì che si pongono le basi della piena e completo sviluppo della persona umana poi sarà il lavoro poi arriverà tutto il resto ma all'inizio l'educazione perché altrimenti commetteremo il tragico errore di fare una scuola nozionistica che conosciamo benissimo perché no? che tiene separate le discipline che non sa farle leggere in dialogo perché non siamo più neanche in grado di dialogare tra specialisti lo vediamo adesso ve l'immaginate è una commissione di specialisti che parlano tutti la stessa lingua e certo se capiscono tra di loro è difficile che si danno torto immaginate una commissione fatta di antropologi di psicologi di sociologi di scienze e via e via e via quanti ce ne sono tanti probabilmente perché perché come diceva Eric Fromm quando ti occupi dell'uomo la facoltà di psicologia non dovrebbe finire mai e una facoltà di psicologia dovrebbe occuparsi di storia dell'arte filosofia antropologia e via dicendo io vorrei concludere questo mio breve intervento proprio facendo riferimento ad una alla scuola all'educazione e al rischio che stiamo correndo ancora una volta perché come ha detto Mauro ahimè non è la prima volta di nuovo cioè è come se l'umanità ciclicamente si dovesse trovare obbligatoriamente di fronte a questo maledetto baratro tra la barbarie e la civiltà ebbene non è la prima volta che questo succede ed è successo anche in maniera più radicale e probabilmente la costituzione è lì come testimonianza di come si costruiscono gli anticorpi alla barbarie contro ogni dittatura di qualunque genere e tipo di qualunque colore ebbene nella scuola nell'educazione si pongono le basi del pieno sviluppo della persona umana e allora vorrei ricordare uno scritto molto interessante che venne pubblicato nel 1995 da Nekko Jeanne le memorie della Shoah pubblicato da Le Monde in cui riporta una lettera ve la leggo brevemente caro professore sono un sopravvissuto di un campo di concentramento i miei occhi hanno visto ciò che nessun essere umano dovrebbe mai vedere camere a gas costruite da ingegneri istruiti bambini uccisi con veleno da medici ben formati lattanti uccisi da infermiere profette donne e bambini uccisi e bruciati da diplomati di scuole superiori e università diffido quindi dell'educazione la mia richiesta è aiutate i vostri allievi a diventare esseri umani i vostri sforzi non devono mai produrre dei mostri educati degli psicopatici qualificati degli Eichmann istruiti la lettura la scrittura l'aritmetica non sono importanti se non servono a rendere i vostri figli più umani ecco perché abbiamo bisogno della nostra costituzione per non sprofondare ancora una volta nel delirio della barbarie grazie l'unica aggiunta che farei è che la difficoltà più grande che stiamo incontrando è che l'ascissione non è tra gruppi l'ascissione non è tra persone l'ascissione è interna è questo il problema perché hanno lavorato bene e quindi le persone non sono alienate dal contesto no sono alienate da sé e questa alienazione da sé questa distanza da sé è terreno di cultura delle peggiori forme di dittatura ma è la prima regola fondamentale prendi un uomo mettilo contro se stesso e otterrai un servo che non saprà nemmeno di essere servo perché la difficoltà più grande è questa per poter liberare dalla schiavitù delle persone la prima regola è che si accorgano di essere tali invece la propaganda che viene pompata al massimo è quella che siamo liberi cioè voglio dire oramai più libertà di così vorresti ancora di più scoprire che non sei libero perché non sai chi sei è già un percorso difficilissimo da compiere perché giustamente tu prima hai citato Dante ma il primo passo da fare è scendere negli inferi gente disposta a scendere negli inferi a essere messo da fronte a uno specchio tant'è vero che in terapia si dice il semplice fatto di essere qui è già un passo verso la guarigione ma è un passo enorme io dico per costruire una comunità più solida beh innanzitutto scopri di avere dei limiti perché l'assenza del limite l'assenza della consapevolezza di essere fragili cioè è questo che fa il liberismo propone un super uomo il self made man l'uomo che si è fatto da solo e io dico sempre è un tossico cioè si è fatto da solo per me è una tossicodipendenza io non andrei fiero di essermi fatto da solo per niente mi vergognerei io sono felice quando posso ringraziare Mauro per quello che ha fatto i suoi collaboratori le persone che ho incontrato cioè per me io ho tanti maestri la vita stessa è un maestro ma come ho fatto tutto da solo ecco questo delirio narcisistico contro cui Mauro si scaglia ogni 3-4 secondi circa è l'arma più potente perché non separa gli uomini come facevano i latini che dicevano erano ingenui dice dividi e ti no dividi l'uomo dentro se stesso e otterrai un servo ma felice di rimanere schiavo e anzi il rischio è che a volte conosciamo però tanto questo è il destino Mauro il rischio che conosciamo è che quando torniamo nella caverna e andiamo a dire allo schiavo guarda che gran parte di quello che vedi non è proprio come lo vedi il rischio che si corre è la cicuta quindi noi siamo consapevoli oramai no infatti non coltiviamo cicuta proprio per evitare danni collaterali però il primo strappo da ricostruire è questo perché un uomo diviso da se stesso è un uomo lo ripeto pericoloso per se stesso e per gli altri io vi ringrazio infinitamente voglio solo cogliere l'occasione perché il lavoro è vero è duro quello di unire diciamo le forze però credo che la chiave sia proprio questa l'accettazione e quindi l'accoglienza hai usato questa bellissima parola dei limiti dell'altro e dei limiti di se stesso all'interno della comunità e nel momento in cui si parla solo di questo si accetta e si divulga questo tipo di messaggio si cambia lo sguardo delle persone che ti stanno guardando e lo dico anche qua dentro perché è così e sta avvenendo quindi vi richiedo una pillola e di un messaggio veramente veloce ai miei colleghi parlamentari dato che siete in questo luogo grazie una a testa ma io riporto una citazione che a me sta particolarmente a cuore e visto che è attualissima siamo tutti spaventati da questo virus perché minaccia le nostre vite allora direi con George Orwell che non è tanto restare vivi il problema quanto restare umani che mi interessa e quando riporteremo questo al centro allora conosceremo quella forma di ascolto che era dei padri costituenti che erano supposizioni ideologiche politiche e anche di principio molto diverse ma hanno saputo mettere al centro il bene della collettività e hanno dato prova di rara amicizia una parola oramai praticamente scomparsa e di cui invece i padri costituenti hanno parlato proprio nei lavori preparatori cioè non era formalità quando io ascoltavo un collega parlare e anche esporre delle tesi opposte alle mie in un clima di amicizia e di ascolto e di rispetto reciproco quello che poi si depositava è questa costituzione straordinaria che è il risultato di quell'ascolto e che è il risultato di quello che si di uomini che volevano che rimanessimo umani non vivi